Avere una figura come Meg Manian davanti a me è molto stimolante, soprattutto a livello mentale, che ormai comunque è una personalità molto tosta. Per me è un punto di riferimento, perché in questo momento secondo me è uno dei portieri più forti al mondo ed è bellissimo allenarsi con una figura così che ti aiuta, ti insegna, ti la consigli tutti i giorni e ci tiene a te per farti migliorare. Grazie a tutti.